Buongiorno a tutti primo piano al primo piano esatto perché ce n'è uno nella nella stanza acqua principale no o no poi la mappa del piano terra perché piano terra ma cos'è sto rumore e c'è la tizia beh a parte che io c'ho il tizio qua che si si sega esatto ho sentito quelli ho sentito quello a parte quello c'è alcina listo cristo fuori che cammino a parte questo comunque al primo piano non c'è niente c'è appena terra non c'è niente da un piante non c'è un cazzo al piano sopra nemmeno c'è stato sopra c'è chiave di alcina da pire che c'è un posto non abbiamo esplorato a chiave di alcina io stavo pensando alla chiave di di ferro di ferro che però mi sa che nel castello perché poi fondamentale ricordavo un'altra di chiave di ferro sai dove esatto esatto beppe l'ho trovata nelle celle c'è un'altra chiave di ferro da fare vabbè nel mondo del primo piano parliamo delle celle in qualche modo allora quindi scusami primo piano dove dall'atrio principale dall'atrio andiamo a destra attraverso il cammino eccola la bastarda della macchina si ma è qua che gira vaffanculo stai zitta ti sento non ti vedo ma ti sento si questo è come x beppe devi andare primo piano un po' giriamo di qua allora dritto per dritto sale porco dio aspetta chiave di alcina porca madre eh raga l'ho sbloccata ma mi devi far passare sei il culo grosso come la madonna levati l'hai sbloccata presa una statua qua non ci può entrare no? no ho preso di qua no allora io ho preso anello d'argento e la maschera del piacere che la va poi devo andare sotto il cammino aspetta ecco boh ho sprecato una cura loro e sti tasti di merda per curarsi il gioco del cazzo va bene interagisci non si apre così in che senso ma cosa sta interagendo scusa posso re interagire con la con la statua eh no vabbè poi abbiamo un problema non è che in realtà le maschere non vanno all'ingresso ma vanno nelle statue solo che sono mischiate tipo questa maschera non va qui no prendi prendi no niente cazzate cazzate solo che se togli la maschera ti escono le sbarre praticamente niente niente allora però me la dà ancora rossa che cazzo sto dimenticando in sto posto c'è un cassetto da aprire ah no ah no che cazzo dico ah no non ti dimenticando niente di andare sotto al caminetto perché è un'area comune è un'area comune è un'area di mappa che Gesù Cristo esatto ma piglia sti scarto dove è? allora no dico cazzate tanno indietro è vero? allora si si tanno indietro allora cosa c'è qua che l'abbiamo preso se adesso entra quella io ma da me ci sono le sbarre quindi da dove cazzo entra ah hai vero ragione ci sono le sbarre sentirla la sento perché nelle stanze di fianco la sento che rompe ah c'è un vaso di merda c'è un vaso di merda c'è un vaso di merda già fatto il vaso ok io l'ho fatto adesso ah niente prova a indovinare c'è un ca... ci sarà un cazzo di rubino del cazzo immagino eh si ma dove hai messo dio eh in alto guarda in alto ah si eh va bene niente passiamo di qua qua sento già dei cristiani che fanno andiamo su attenzione a cui mi sembra sia roba storica che senso storico devo ricordarci di quella mappa mentre seguo la mappa del tesoro diceva in un cuoccio delle armature vecchia ma non mi pare intendessero un'arma lì boh ok ma perchè mi devi rompere il cazzo è arrivata è arrivata è arrivata allora bella bella dalla crepa entra aria fredda forse potrei distruggere il muro come aspetta bacino e che secondo il problema è che non riesco a spostare quella cazzo di cosa ma che lei mi spiego e non riesco come distruggere il muro però non capisco secondo te ah ci sarà qualche bomba da lanciare di sopra c'è teschi di animale su una base bomba artigianale e io non c'erò la bomba no ma la trovi nel tavolo allora e come l'equipaggio e quello è l'esempio di la vaschetta l'equipaggio posso curarmi per favore eccola non mi fa curare perchè? perchè non ho più cure giustamente createle ahi è di bestia ma senti ma morissi ti confermo ti confermo che se ti rinagano la cosa si sminchia tutta sono un bastardo eeeh vaga è andata così nel senso se tu provi ad uccidere me io provo ad uccidere te e perchè? perchè sei pigia No Comunque fa male questa fa... Non non sei mia 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 madre Cosa una mia città l'ho montata io strega di merda digli ma va bene detto questo io non ho più cure non capisco dove sono finite le mie cure perchè non ne ho usate così tante ne avevo molte di più Non so cosa è successo Allora, fondamentalmente Quante cure ho io? Ne ho solo più una Però posso crearla Niente, alla fine lo scopo di questa stanza qua Era uccidere l'ultima figlia Esatto Tendenzialmente, va bene Quindi stiamo tornando indietro tenendo presente che C'è quella là che ci cerca Però questo posto qua Aspetta, abbiamo un problema Perché lì ora ci sono le sbarre No, a parte che è rosso E poi è rosso No, da me è tutto blu Allora, c'è cosa non ho raccolto, aspetta Il problema è capire come cazzo uscire Perché se la maschera me la devo tenere O ci serve una maschera finta Qua immagino Poter andare No, anche perché la maschera devi metterla indietro Qua non c'è Sotto ti puoi buttare per caso, no? No Aspetta, c'è E quindi è un casino Come usciamo da qua? Aspetta Eh, o dobbiamo trovare una maschera finta Eh, ma dove vuoi metterla, scusa? Eh, la mette al posto della maschera Ah, aspetta C'è il teschio di animale di base su un altro Ah, ci ficchiamo quello Bravo Bravo Non puoi usare questo oggetto così No, ma tu raccogli quel teschio L'ho raccolto Si apre la porta dietro Ma di che parli No, ho capito No, Beppe, ho capito Però Tu eri già andato Tu eri già più avanti Ero già più avanti Però effettivamente Se noi Allora Allora, aspetta Interagisce Come, come faccio? Se io volessi analizzare il teschio Come faccio? Allora, vai su Esatto Ascolta, ma è svita il teschio Esatto Immaginavo Devi analizzare il teschio E lo ficchi a posto della Scusami, della maschera Ok Immaginavo comunque E adesso Per spirito del Parte che lì nella terrazza è ancora rosso Però Oh, una certa me ne batto il cazzo Per spirito del completismo Uno dovrebbe andare Quindi, come ti ho detto Nelle celle In basso Solo che non mi ricordo come si va Esatto Esatto Anch'io Non con l'ascensore Aspetta Famici pensare Aspetta Lì c'è una scala Vabbè, devi andare azzurro Porco Dio Non si capisce Vabbè, io sto tornando Dalle Aspetta Aspetta Atrio principale Su No, giù Eh, da qualche parte Dall'atrio principale Mi sa Da cortile forse Da cortile Puoi essere da cortile Dalla porta di legno Sai che tu dicevi Quando non ci potevamo andare Proviamo C'era la porta di legno Allora Interagisco Ci fico sto teschio E allora proviamo ad andare Da cortile Che mi ricordo bene Ma non mi ricordo un cazzo Devo fare così Sono Atrio principale Adesso arriva quella Mi apre la porta Attento Dicelo dietro Se faccio finta Non mi ha visto Io le sono passato dietro Le ho pugnalato il culo Io la sto vedendo Ma sulla debita distanza È bene andata così Eh Si vede che doveva andare così L'intera stirpe Dimitreskuz Ah, nel cortile Effettivamente c'era Una porta di legno Che era quella Che non poteva aprire Con la chiave Mi fa di ricordare Che si andava da lì giù Cagna Aspetta Tu dici questa Vediamo un po' Si Mi dispiace Non sono più forte Allora Io sono Io andando nella porta di legno Qua finisco Nella sala dell'abluzione Che però effettivamente Guarda Sai ti dico Ci vado Perché c'è la terrazza E voglio Prendere cosa c'è nella terrazza Nella terrazza Allora E la porta di Alcina C'era una porta Che portava giù Dal cortile Sera la prima porta di Alcina Ah no Io ho tutto blu Nella terrazza Cioè Ah no Aspetta No La terrazza Io ce l'ho rossa Ah pure io Poi ce l'ho rossa No Però non è qua Dove cazzo Dove c'è l'arco? Ah da qua C'è la terrazza Ah però aspetta Perché No ti spiego Nella stanza di Allora fermi Perché nella stanza Della piscina Te la ricordi Lì effettivamente Si può andare giù Ah è vero È vero È vero Allora andiamo Nella stanza Della piscina Allora Prima fammi andare Nella terrazza Di sta minchia Eh cioè Cosa non abbiamo Prendere Ma la minchia ci arriva Lì in quel posto Scusa Oddio C'è una porta C'è una porta C'è una porta Laterale Io sono già Nella terrazza Una porta laterale Da dove? È la stanza Che si chiama Stanza privata Di Alcina No 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 Non ci arrivi da lì Prova Prova ad andare Dove è rosso Io non ci arrivo da lì Perché è crollato Ah ok Ok No esatto Io sono lì fuori Pensavo che era lì No ok E come ci possiamo Arrivare dall'altra parte C'è un lato Niente Mi sa che ce lo giriamo Nel culo Esatto Ma andiamo dal Eh tanto Che cazzo dobbiamo fare Andiamo dall'abluzione Di dove cazzo È la stanza Ah era qua vicino Effettivamente Il rossetto Della signora Ho preso io Intanto Dov'era 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 Nel cesso Nel cesso Della stanza di Alcina Prendiamolo Prendiamolo Poi a sto punto Io me ne vado Nella stanza dell'abluzione E provo a scendere giù Esciamo giù Esatto Tanto penso C'era più nessuno Da sotto Eh se ci sono Allora Proviamo a scendere qua Vediamo dove porta Sì intanto Per forza qua Non ci possiamo sbagliare Cos'è che dice Cricetto metallaro Dove sono le bastarde Ha voglia di bastarde Qua Vedi che è tutto rosso In sto posto E al fondo Di sto Di sto cazzo Di posto Ce la stacchiava Con la stemma di ferro Eh ce la stacchiava Eh sai che Piero di bestie Però che le sento Ma perché tu Prima non le avevi Ammazzate tutte Ti ho detto Che qua ti avevi battuto Il cazzo Esatto Hai detto Eh io le avevo Staccate tutte Speriamo Di non morire Come dei cani Ok Erano gli scarti Perfetto Allora Ora Io devo andare qua Qui Eh qua c'è un problema Eh lì mi segna Una zona rossa Non esplorata Minuscola Qua dietro No io Io ho tutto blu A parte la zona Dove c'è la chiave L'avevo esplorata prima Cerca Però effettivamente Come cazzo si passa Eh capito Io sto cercando Una strada Ma mi sa che di qua No C'è c'è un muro Come cazzo E' problema Che non si può arrivare D'altre parti Ciao Sai perché Perché ti ricordi Quando quella Ti spinge giù Con la faccia E cadi nelle celle No però Ci deve essere Un'altra maniera Io vedi Nelle celle Vedo No allora Dobbiamo Ho sprecato Un po' di proiettili Per niente Proviamo indietro Aspetta Bisogna tornare indietro Secondo me Ci si accede Dal castello Direttamente Però non so dove Allora proviamo ad andare A vedere se Dalla sala dell'opera Possiamo andare giù Perché non mi viene in mente Altro Esatto Io sono dalla sala dell'opera Ah no Se fosse dalla cucina Aspetta fammi vedere una cucina Non è che si passa Dalla cucina Beppe Andiamo dalla cucina E' uguale tanto Nel senso Provare per provare Aspetta Che ho la bastarda Con le tette in faccia Ma vai affanculo Brutta e stupidona Via via Oh mio dio Dove vado Via via Questa fa male Questa No però Tu e la Troia Ce l'ho dietro Aspetta Nessun cerco di arrivare Di nuovo In cucina Ma che cosa vuoi farmi Se il più veloce io Merda Via 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 Andiamo Dalla cucina Vediamo come dici tu Esatto Cucina E vediamo E vediamo se qua Si scende Grande Ok La cucina Vedo Io c'ho C'ho una stanza Con la spada Aspetta Più di una E' pieno Ma te l'ho detto Respawn Non ha neanche più senso Ammazzarla Sto gente E la Ok Siamo proprio A parte che io qua ce l'ho rossa E poi siamo esattamente Dove c'è Quella stanza lì Eh quanti però E' a me uno solo Non è venuto Ma adesso non è venuto solo Ok Messo Ok Ok ragione Stiamo proprio lì Stiamo proprio lì Stiamo proprio lì Stiamo proprio lì Stai già aprendo Stai già tirando Sì Che succede? Bomba Eh no raga No Questo è un enigma Aspetta Fammi ammazzare C'è una bomba C'è una mettita C'è da Da sparare Con una bomba No Devi dar fuoco All'affare Non so come Ah si C'è un muro Da buttare Raga mi hai rotto il cazzo Eh ce ne sono un po' Eh Ammazziamolo un attimo va Ce ne sono un po' Boh Li ho ammazzate Allora Ce l'ho un'altra bomba Sì Io devi averla anche Perché non li ho provvisati Ok Esatto Ce l'ho da tirare giù un muro Scusa No Spingi sto candelabro Di Gesù Cristo Ma E Ma ancora Ma tutti Nasgul Di Ma piccati le mani Nel culo Ma Pensa te Adotto il cazzo Non riesco a dargli fuoco Questo cazzo di candelabro Eh Dobbiamo un attimo farlo Deve stare calmi Dobbiamo un attimo farlo Lo so Però Dobbiamo stare calmi Perché io Non sono riuscito a concentrarmi Perché vengono le Vaffanculo C'è un modo per spingere Anche qui Con la testa Devi spingere le cose Mi sto incazzando Devi fare così e così Devi andare su secco Penso Sì ma non prende fuoco Ah qua il tesoro dove c'è E la tomba Devi trovare la giusta illuminazione E questo è il robo per prendere Eh vabbè Mi fa piacere però No Dobbiamo riuscirci Oh ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ok Sì perché secondo me è il pugnale Per formare la bastarda Te lo dico Esatto Sto cercando di Aprire Di farlo io Perché non sono riuscito ancora Tu l'hai spinto fino Fino lì sopra Giusto? Sì sì Questo cazzo di micia di cosa C'è un modo Io sono ancora con bloccato Vado a sbattere contro il muro Ragazzi Che fall Si accende Basta sparargli Basta sparargli Ma vado con la testa Sei serio? Sì basta sparargli Lui prende la trattoria giusta Ah ma vaffanculo Vabbè Però così non piglia fuoco Aspetta Lo spingi vicino Boh ce l'ho fatta Aspetta aspetta Beh vaffanculo Pianso il pugnale va No non è un pugnale Un po' Occhio azzurro Abbiamo un po' di occhi Se non sbaglio È vero Ah ma un tesoro Di valore combinabile Combinabile con che? Cazzo ne so Con il cranio No con sta minchia è combinabile Anello d'argento Ma oh porco di... Combina con Con l'anello d'argento Con l'occhio Con l'anello Ristoratore Eh però attenzione Così non si vende Ah invece si scusami Di grande valore Bella merda Bella merda Alla fine Sono una stanza bonus Dove tipo Cioè Praticamente si poteva andare Tranquillamente A mettere le quattro facce Di cazzo Nelle Esatto Quindi adesso Il piano è Dimmi dimmi Scusami Stavi parlando No Niente no Il piano è andare Alla Io devi farei una salvata Primo Ascolta Esatto Dal nostro amico Eh torniamo su Andiamo dal duca Andiamo dal suca E poi Fondamentalmente Andiamo lì Nell'atrio principale Pazzesco Degli angeli Tanto Le bastarde Le abbiamo fatte fuori Bastarde le abbiamo fatte fuori Tutte C'è scuse le perse Mi sa Che dice C'è scuse le perse C'è il raso Che se unito allo stream Mi dice Lo sappiamo Che è un gioco di merda Bravo Giovanni Bravo Giovanni Allora Allora Ok Andiamo al lato principale Ma chi è che ci fa In cucina A rompere il cazzo Allora C'è in cucina Ma c'è un Porco No Allora Altrio principale Corre Corre Tanto Quelli là Non possono più Materializzarsi Quelli sono morti Quelli là Abbiamo fatte fuori tutte Allora Sto scendendo giù Però prima Andiamo da salvare Da quello Sì Appena da mercante Quantità 1 Vuol dire che una munizione Costa mille Ma tu sei tutto piccio Esatto Buon giorno Bo di salvo Ok Stai andando Bo Stiamo andando a mettere Le quattro teste di minchia Allora Ehm Sono le tette Come minimo Andranno messi in ordine Io non so un cazzo Anch'io Questa maschera non va qui Va bene Questa maschera Ok Allora è facile Eh Basta dirlo Ok Una l'ho trovata Ma arriva quell'altra A rompere il cazzo Sicuro Sicuro Leggiamo l'immagine Che appena Allora Io le ho messe tutte Eh Tuo io Si sta aprendo Sta porta di merda Io vado Dove io Si sta aprendo Aperta Ci sono due cose Da aprire Spacchiamo Boh Siamo andati Dal castello Di sta minchia Ciao castello È stato un piacere Avete rotto il cazzo Allora aspetta Andiamo di qua No il cazzo Stiamo andando In un'altra ala Eh boh Esatto Alto dal castello Qua è tutto rosso Perché Cosa non ho preso Ah però c'è C'è Ah vedo C'è il corridoio rosso Allora andiamo Vedendo un'altra Perché il corridoio rosso A parte che è qua Ah magari Nei lati Della porta Aspetta C'è Sì 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 C'è un base Esatto C'è Pistola Io sono in una chiesa qua Eh Beppe Torre della devozione Dove io E c'è E c'è C'è una C'è una tomba In fondo Però Ascolta una roba Ti fermi un attimo Non analizzare la tomba Diario Note Documenti Consigli Documenti Mattina cortina del castello Ma c'è A parte che ci sono C'è il diario di Ethan No ma ascolta La mappa No la mappa La mappa del tesoro Dove cazzo indicava? Allora la mappa del tesoro Non dà un Dungeon Kitchen Cucina Ma dove la vedi? Dove ce l'hai? Per favore Nel Qua ce l'hai Negli oggetti Mappa del tesoro Poi c'è Kitchen Ma è quello che abbiamo fatto noi Ci siamo arrivati da soli Boh A pos Cucina Era il tesoro Ma non era la spada Boh Boh La spada La troveremo Nella barra C'è un cimento Di grande Volei faccio La cede Volei aggiustare Io ho cliccato Alla barra Attenzione Orco Di chi è? Ah ho tornato il pugnale Basta dirlo Eh è vero Adesso arriva l'altra Io lo so Eccola qua Ammazziamola Ma piantatelo nella Bagiana Ma io non volevo farla io la boss fight No Abbiamo ammazzato la Dimitrescu Ma cosa Oddio Ma che cazzo è Ma cos'è Ma che cazzo è Boh Ma che devo fare Per me dobbiamo sparare a lei sopra Sarà lei la puntuta debole Penso Boh Io lo sparo a lei Mi sparo a lei Buona via Ma pare una morte dolorosa Ma io immagino Devi sparare a lei Allora Attenzione Ho trovato delle munizioni Per il fucile da cecchino Ma mi sa che ci serve Esatto Perché mi sa che Dove sono le munizioni? Su Ah qui Dell'arm Ora 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 Aspetta Assetta Aspetta Aspetta ma dove cristo però volevo conferma spostare a gruppa scelta rapida mettiamolo a posto ah no ce l'ho già giù ma che coglione ma stai ferma no attenti cazzo ridi che fortuna mi sta ammazzando però ok ho le cura e raga le vespe che l'ho fatta incazzare ti voglio un canale io ho fatto male adesso sto scappando ma tu l'avrai già ammazzato in magia ma donna no presa No! No! Ma ecco! No! Ma ecco! Ce ne vanno di colpi che l'hanno ammazzata questa? Sì, gli flami in faccia! Ma ecco! Sì, ma devi correre e scappare, p***a di lui. Stai dietro, abbassata di... Dove sei? Devo abbassar la mente vuole, aspetta. Ma la vedo. Qua ho partito una seconda fase o ho finito? E io mi sono ancora combattendo. Mi penso che sta volando, ma... C'è questo, eh. E lei quando... Ma non muore, c***a. Ma che stai scocciando. Stai salendo sul secondo piano, che c***o c'è qua? No, qua è... Cioè non... E' ancora lunga questa fase. Penso di averla vinto. Io sto ancora... C***o! E' inferno. Ho finito i colpi della... Vabbè, è la pistola. penso di aver vinto seccata mi ha finito forse gli danno ammazzati è pazzesco va bene ma che sta succedendo è morto flacone sporco attenzione